La cooperativa agricola Falcineto ha approvato in sede ordinaria il bilancio dell'esercizio 2019 insieme ai soci. Assemblea che quest'anno si è svolta in una data insolita a causa del fermo dovuto alla pandemia, che ha colpito anche il settore agricolo del territorio, obbligando le aziende a cambiare metodi di lavoro, eseguire protocolli aggiornati a cadenza settimanale in base alle informazioni scientifiche. L'Assemblea è stata dedicata alla scomparsa di Gabriele Romiti, un componente della cooperativa arrivato poco più che ventenne, persona che amava il suo lavoro e che è stato ricordato come un collaboratore disponibile e competente dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio della cooperativa, il quale è stato presentato con le solite difficoltà tipiche del settore, inserito in un contesto generale di crisi economica, le attività analizzate a bilancio della cooperativa rientrano in due gestioni separate, lavorazioni meccanico-agricole, soci e terzi e conduzione diretta di terreni. Per quanto riguarda la lavorazione e i servizi svolti direttamente sui terreni dei soci, il fatturato ha subito un lieve calo, ma considerato positivo, in quanto ottenuto con un costo per impiego di mano d'opera inferiore di 56 mila euro rispetto al 2018. L'altra attività, ovvero le conduzioni dirette dei terreni, il bilancio si è mantenuto sugli stessi livelli del 2018, evidenziando la validità e la tenuta dell'accordo raggiunto tramite la cooperativa ACOF per la vendita di grano duro garantendo la copertura dei costi di produzione. La cooperativa, in effetti, quando chiude con un sostanziale pareggio, ha svolto bene il suo ruolo. Quando siamo riusciti a dare gli stipendi a tutti i dipendenti, ha pagato tutti i contributi, ha fatto fronte a tutti i nostri impegni con le banche, con gli enti e tutto, la cooperativa ha svolto il suo ruolo ed è a posto. Poi, se guardiamo gli ultimi 4-5 anni indietro, dobbiamo solo essere contenti perché adesso c'è stata una piccola ripresa dei prezzi, però abbiamo attraversato 2-3 anni in cui il prezzo era andato giù e abbiamo chiuso con delle perdite più consistenti. Adesso invece sono due anni che riusciamo a raggiungere sto pareggio e quindi possiamo essere molto soddisfatti. Altro aspetto di considerazione del bilancio di esercizio riguarda la società sportiva che ha raggiunto il traguardo del 33esimo anno di attività nella gestione del Falcineto Park, campi da calcio e calcio a 5 della sala polivalente. Siamo stati ripagati con dei contributi governativi e quindi il bilancio non ne ha risentito. Poi abbiamo lavorato per il resto normalmente, qui ci sono mei Alessandro e mei Filippo che sono due giovani che si occupano di questa società e non ho di solito la tendenza a fargli dei complimenti direttamente, ma quest'anno bisogna farglieli perché nel 2019 hanno raggiunto un utile di 9 mila euro che su un fatturato di circa 80 mila non è poco. Penso che non c'è mai stato in 33 anni un utile così grosso. Per quanto riguarda invece la festa della Mietitura che giunge alla sua 41esima edizione si è svolta con una cena in forma privata riservata a soci e invitati.